Ehi, un saluto da Chisinau, dalla Moldavia, dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocabionica. Questo è il Dipartimento di Bioemulazione. Questi sono gli spazi dove viene realizzata la linea premium e la linea superior. Qua nascono le linee dentali più sofisticate al mondo. Qua ci sono tutti i ragazzi che si occupano di far nascere dal design prima digitale al computer tutte le linee dentali che vengono poi montate nei nostri policlinici sia in Romania che in Moldavia. Qua potete vedere le postazioni di scansione dove vengono acquisiti i file delle impronte che arrivano qua fisicamente. e ricevono anche tutte quelle che sono le impronte invece digitali che arrivano dai nostri policlinici caricate quindi attraverso internet. Qua vedete per esempio Liviu, il nostro capo design che si occupa della ricezione e trasmissione dei dati poi ai policlinici e anche ai robot che abbiamo in Romania. Vedete quanti sono i designer. Questo è il futuro. Qua invece abbiamo la parte possiamo dire sporca dove vengono creati i gessi, dove vengono create le basi su cui poi vanno a lavorare con gli altri dipartimenti alla realizzazione finale della dentatura. Questa invece è la sala macchine dove ci sono i robot e la sala di controllo con gli operatori che montano i file che devono essere poi riprodotti in fisico in tre dimensioni. e qua abbiamo i computer che vanno a trasferire quindi i dati che ci arrivano dai ragazzi che si occupano del design. Vengono caricate le arcate sopra le basi di fresaggio oppure di produzione metallica. Lì vedete i macchinari che fisicamente trasformano il disegno tridimensionale in un oggetto. Qua vedete per esempio le macchine di produzione del titanio, strato dopo strato vanno a riprodurre quelle che sono le tridimensionalità create con il computer. Vedete questo ha creato già 242 strati di 719. Quando avrà completato la fusione di tutti gli oltre 700 strati questa macchina verrà aperta e si andranno a rimuovere dalla base quelle che sono appunto le strutture realizzate. Questi sono invece i robot fresatori. Qua stanno producendo dei denti che verranno poi mandati alla clinica, riabilitazioni estreme da montare sopra gli impianti dentali. Il paziente è quello che ha fatto per esempio l'implantologia. Qua invece vengono fresati sempre da altri robot quelli che sono i denti di zirconio che vanno posizionati sopra all'arcata per esempio superior. Questi sono i materiali che si usano, ok? Sono materiali che vengono dalla Germania, dall'America o dall'Italia. Qua abbiamo invece i ragazzi designer. Andiamo negli altri dipartimenti, ci spostiamo, andiamo oltre e andiamo verso l'area dove vengono poi fisicamente realizzate le montature dei denti sopra alle barre metalliche. Questa per esempio è l'area dove viene assemblata superior. Qua abbiamo invece i ragazzi che si occupano degli aligner, degli allineatori che ci permettono di raddrizzare i denti. E qua invece abbiamo il dipartimento di ceramica dove viene finalizzata la riabilitazione, quindi ceramica. La nostra sala conference qua invece vengono fatte le riunioni mensili con tutti i ragazzi. Qua abbiamo la reception più tutti gli altri uffici amministrativi. Io vi faccio un saluto qua da Chisinau, dal nostro centro di ricostruttiva di biomolazione. Un saluto a tutto il gruppo. Ciao. Ciao. Ciao.